Sanità, ricostruzione post-sisma, inclusione sociale e internazionalizzazione di piccole e medie imprese sono questi i pilastri del programma elettorale del Movimento 5 Stelle che ha scelto Gian Mario Mercorelli come candidato governatore delle Marche. Votato dagli iscritti sulla piattaforma Russo, Mercorelli ha iniziato a Fano il tour regionale, prima tappa ai capannoni del Carnevale dove è arrivato insieme alla candidata consigliera Marta Ruggeri. Ad accoglierli la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli, alcuni membri del direttivo e i maestri carristi. Dopo una breve visita tra i giganti di Cartapesta è seguito un incontro con la società aeroportuale. Il tour si è concluso in piazza 20 Settembre con portavoce, attivisti e simpatizzanti. C'è un tema che a me è molto caro, purtroppo è un termine sbagliato, ma che per me è molto importante, che è quello del sismo. Questo è un tema che io, essendo terremotato a mia volta, purtroppo, ho questa questione da affrontare prima di tutte e questa questione spesso viene sottovalutata perché si dà sempre la colpa al governo. Ma la responsabilità della regione in queste procedure relative al sismo è enorme. Tra le priorità rientra anche il tema del sistema sanitario. Bisogna lavorare sulle liste d'attesa e riaprire gli ospedali chiusi, ha detto Mercorelli. La sanità va riportata in mano pubblica. La sanità, le Marche sono la regione più privatizzata d'Italia. Cioè noi abbiamo più accesso alle private rispetto a tutto il resto d'Italia. La sanità deve essere pubblica, non concessa ai privati. Il privato fa il privato, c'è un sistema capitalista. Invece sulla possibile alleanza con il Partito Democratico il candidato è stato chiaro. Localmente su che cosa ci si poteva basare se non su una evidente marcata discontinuità con il passato. Avete visto voi questa discontinuità? Io non l'ho vista da nessuna parte. È evidente che di conseguenza non ci siano potenziali punti di contatto. Io mi auguro che diventi con questo poco tempo rimasto purtroppo poca possibilità di fare campagna sul territorio. Ma che diventi lampante quanto ci sia bisogno di persone con le mani libere. I partiti non hanno le mani libere. Il discorso che abbiamo fatto poc'anzi dello scegliere i candidati ne è un esempio. Non è che si sceglie la persona più qualificata o quella più stimata o più voluta dalle base. Si sceglie quello che garantisce gli equilibri di palazzo. In regione poi quando abbiamo chi deve garantire gli equilibri di palazzo siamo sicuri che penserà alla cittadinanza, ai problemi della gente. Conclusa la sua tappa a Fanno, Mercorelli proseguirà domani il tour nella città dei bronzi dorati. Domani invece saremo a Pergola. In mattinata a lungo corso Matteotti parteciperemo ai banchetti. Poi ci sarà la visita al museo dei bronzi dorati e dopodiché un altro incontro con i simpatizzanti. Quindi questa è la prima tappa fanese di Mercorelli. Tornerà perché i luoghi della nostra città che ci tengo particolarmente e che lui conosca sono tanti e sono interessanti.